Vi auguro la buonanotte con questo messaggio Tempismo perfetto Questo è il momento perfetto per agire seguendo l'ispirazione Le porte sono aperte e mentre le attraversi noi siamo il tuo fianco Non rimandare perché tutti gli ingredienti sono già pronti per darti un esito favorevole Tutto e tutti sono con te, supportano il tuo successo Questa carta indica che hai bisogno di compiere alcuni passi affinché le tue preghiere vengono esaudite appieno Gli angeli dicono che questo è il momento perfetto per agire Ti guideranno lungo il cammino A volte non è importante il modo in cui approcciamo una situazione Bensì l'energia L'azione e l'intenzione con cui manifestiamo i nostri desideri Dopo che abbiamo fatto il primo passo in direzione dei risultati che vogliamo ottenere L'universo ci offre l'aiuto necessario Ulteriori significati di questa carta sono Agisci adesso La situazione si risolverà per il meglio purché non rimandi Prendi una decisione Se hai trovato degli ostacoli in passato è perché non era ancora il momento giusto Questo è il messaggio per augurarvi la buonanotte Grazie 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 Grazie